Alla prima pagina. Di una luna che si vede da qualcuno che è nascosto in una scala o che sicuramente non è nella piena dello spazio e mi veniva in mente proprio l'immagine che tante volte la visione che tante volte è limitata per ognuno di noi e mi veniva in mente la storia di Gedeone quando lui era nascosto in questo canale per raccogliere il grano perché il popolo era assillato era accerchiato e quindi era in difficoltà quando il popolo di Israele era sotto il dominio dei Madianiti che erano delle bande dei predatori che razziavano tutto quello che c'era in Israele come delle cavallette e quindi Israele aveva seminato piantato ma chi raccoglieva era un altro. Puoi abbassare un pochettino? E questa cosa parla dell'apostasia della situazione che quando si è lontani da Dio c'era una situazione di povertà per il popolo e quindi c'era schiavitù e terrore perché quando c'erano i Madianiti non solo portavano via ma rendevano schiavi e portavano sicuramente paura nella vita delle persone e quindi quello che una volta erano come per dire nemici conquistati da Israele adesso loro erano diventati dominatori di Israele. Quindi si era invertita la cosa. È un'analogia che tante volte dobbiamo vedere nella vita dei credenti che una volta eravamo vittime di alcune situazioni prima di conoscere Dio poi abbiamo conosciuto Dio e abbiamo vinto e dominato debolezze, peccati, rotte maledizioni, no? Cambiato stile di vita ma quando poi una persona si allontana da Dio cosa succede? Che queste cose come in questo caso ritornano a prendere possesso nella nostra vita, no? Le cose vecchie ritornano a conquistare. Quindi la prima cosa che vediamo in questa storia è che stare vicini a Dio non è solo vincere quel momento ma mantenere la vittoria nel tempo. Noi nasciamo spiritualmente ma poi dobbiamo crescere spiritualmente. Molte persone, molti di noi dopo una bella esperienza pensano che quello è il massimo, no? E anche come il matrimonio molti si sposano pensando che il giorno più bello è quello e quindi trascurano tutto quello che serve per mantenere il matrimonio. Ma anche nel lavoro. Tu fai tanto per impostare un lavoro, per ottenerlo, per farlo andare bene, poi lo lasci lì e cosa succede? Che piano piano si rovina. I rapporti si rovinano, le condizioni si rovinano e quindi diventa vecchio, obsoleto. E qui vediamo proprio come il popolo di Israele che era benedetto è ritornato ad essere schiavo. In Giudici 6 da versetto 6, Israele fu perciò ridotto in una grande povertà a motivo di Madian, Madianiti, no? E i figli di Israele gridarono all'Eterno. Quando i figli di Israele gridarono all'Eterno a motivo di Madian, l'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta. Vedete? Anche qui vediamo subito come bisogna ammettere che le cose non vanno bene e cominciarono a gridare l'Eterno. Quindi la seconda cosa che dobbiamo vedere è che dobbiamo sempre stare vicino a Dio e quando le cose non vanno confidare in Dio. In questo caso addirittura stavano gridando perché non stavano andando male, ma proprio erano rovinati perché non raccoglievano, erano oppressi, erano prigionieri di quello che era il loro nemico prima. Adesso il nemico era su di loro. Quindi cosa succede? Che manda un profeta. I figli di Israele gridarono per ottenere il soccorso, no? Quando dice venite a me voi che siete stanchi oppressi, gridate il mio nome, se il mio popolo si pente, dove è invocato il mio nome, io ritornerò. Sempre parla di un atteggiamento dove noi dobbiamo andare da Dio. Quindi questo è un messaggio per chi vuole andare da Dio, per chi crede in Dio, per chi ha bisogno di Dio. Chi non ha bisogno di Dio, chi non ascolta Dio, non ha riscontro di quello che Dio può fare. È chiaro che chi chiede a Dio è perché sa che Dio può fare qualcosa. Quindi i figli di Israele gridarono e il Signore mandò come prima cosa un profeta. E cosa ha fatto il profeta? ha detto guardate che il vostro problema è l'idolatria. Subito Dio ti fa capire che prima di benedirti devi togliere qualcosa. O perlomeno, da qui possiamo vederla anche in un altro modo, quando le cose non vanno bene nella nostra vita vuol dire che qualcosa che non è Dio è entrato nella nostra vita. Ed è il peccato sicuramente, ma magari uno pensa di non peccare, ma qui stiamo parlando di idolatria, cioè di qualcosa che noi sostituiamo Dio facilmente. Che pensiamo che i soldi, l'amicizia, il potere finanziario, politico, la nostra capacità può sostituire Dio, no? Non abbiamo paura perché tanto c'è la scienza. e poi vediamo che nonostante la scienza molti stanno male, molti hanno perso il lavoro, molti stanno morendo, sono morti. Allora questo è anche un nemico che ci può mettere paura, che ci può togliere il cibo. Quindi possiamo anche vedere di affrontare questa cosa con l'aiuto di Dio. E Dio dice ok, ma io non posso intervenire se voi non siete al 100% per me. Cioè c'è un idolo tra me e voi, no? Quando noi diciamo a Dio aspetta perché devo fare, perché ho altre cose, oppure prima andiamo altrove, tanta gente arriva a Dio quando ha esaurito tutto. Soldi, amicizie, scienza, maghi, fattucchieri, oroscopi, cartomanti, new age, filosofie, quando tutte queste cose non funzionano, allora dice beh, proviamo ad andare da Dio. E lì Dio ti dirà come se fosse al primo a cui ti fossi rivolto, ti dirà ok, se vuoi ascoltarmi, se vuoi ricevermi, cominciamo a togliere qualcosa che non va, qualcosa che si mette tra me e te, amén? Qualcosa che non è solo peccato, è qualcosa che rovina l'intimità con Dio, è qualcosa che rovina la fede in Dio, amén? Perché quando noi decidiamo che tra me e Dio ci deve essere qualcosa, non ho la mascherina, se no dicono che la mascherina, un idolo, vuol dire che io ho più fede in questa cosa, in questa situazione, in questa persona, che è Dio, amén? E' questo che ci fa vacillare, perché quando abbiamo un problema, adesso ad esempio, no? O accettiamo il ragionamento del mondo, o cominciamo a credere nel nome di Gesù, io rinuncio, io leggo, io scaccio l'influenza del male dalla mia vita. Se io ho fede, so che ho fatto il massimo, so che il risultato è certo, quando non ho fede, ho fatto la stessa preghiera, ma speriamo che funziona, vediamo come va. No, non può esserci un parlare del genere dopo una preghiera fatta nel nome di Gesù e fatta per fede, amén? Se io ho, se, ma e però, c'è un idolo, c'è qualcosa che ha indebolito la mia fede. Come fai a liberarti di un popolo di 135, 165 mila uomini contro Israele? C'era attorno, come le cavallette, erano sparsi 135 mila o 165 mila soldati. Israele era molto di meno, era impaurito. Tanto è vero che gli toglievano il cibo, i diritti e quant'altro. Come fai a liberarti? Non hai soldati? Non sei capace? Se no avresti già vinto, ti saresti ribellato, invece non riesci. Come ci si fa a liberare qualcosa che è molto più grande di te? Che sia un esercito, che sia un virus, che sia una maledizione, che sia qualcosa che non va nella tua vita in questo momento e tu stai pensando come faccio a liberarmene? La soluzione è sempre Dio. Bisogna avere fede in Dio, bisogna sapere qual è la volontà di Dio. Se io prego dicendo Signore sia fatta la tua volontà, ma io non so qual è la volontà di Dio in una determinata cosa, io non posso ricevere da Dio. Tanta gente prega in un una guarigione, ma non sa se la riceverà. Facciamoci la domanda, perché io non devo ricevere la guarigione? Dio non vuole, Dio ha preferenze, Dio ha detto che non è il tempo, che cos'è? E come faccio a sapere qual è la volontà di Dio? E qui vedremo l'altro aspetto di Gedeone. Per sapere qual è la volontà di Dio su ogni cosa dobbiamo stare alla presenza di Dio. Niente di difficile, niente di difficile, ma si tratta di avere un tempo dove tu chiudi la porta, vai in quella stanza e parli con Dio, parli con Lui, piangi, supplichi, chiedi, leggi, fin quando Dio ti parla, perché Dio parla. La gente non vuole ascoltare, la gente vuole ascoltare, c'è gente che viene in chiesa aspettando che Dio gli dica sì, stai facendo bene, anche se è una cosa sbagliata contro la parola di Dio. è assurdo. Noi dobbiamo ascoltare Dio. E questo è un messaggio per chi vuole seguire Dio, non è per quelli che vogliono avere una ricetta per fare una torta o per una situazione, per un momento. Qua è una ricetta per la vita, l'autore si chiama Gesù e funziona come dice Lui. Quindi l'angelo del Signore, che era l'apparizione di Gesù prima che si incarnasse, questo è quando si parla che un angelo di Dio è venuto, è sempre Gesù che viene prima che si incarna. Quindi nelle varie storie, quando si vede questo angelo di Dio, questo Dio che scende a parlare, è Lui, è la persona di Gesù. Che poi nel Nuovo Testamento, quando arriva, Lui si incarna e da quel momento prende la fisicità di un uomo. Ma come prima e dopo, ecco perché anche nel Vecchio Testamento Dio ha sempre mandato la sua parola, il suo volere, il suo figlio, i suoi angeli a dire quello che è giusto fare. Quindi non possono dire che nel Vecchio Testamento sono esclusi. No, non era nella forma di Gesù fisico, ma era nella forma di servo di Dio. Quindi è apparso a un uomo, a Gedeone. Questo Gedeone lui non credeva che fosse Dio, non credeva che venisse da Dio, perché diceva io tra l'altro chi sono. Noi siamo la famiglia più piccola di Israele e io sono il più piccolo della famiglia. Cioè, di più piccolo non c'era. E tu vieni a me a dire che ti servirai di me per liberare il popolo di Israele. Quindi se tu pensi di non valere, se tu pensi che sei nuovo, che tu sei la famiglia più piccola di questo paese o di questa spiritualità e di questa famiglia tu sei l'ultimo arrivato, Dio non fa preferenze. Se Dio decide che tu puoi fare qualcosa di straordinario, tu sarai uno strumento che Dio adopererà. Quindi non combattere con i tuoi pensieri negativi, non guardare il tuo passato, non guardare la tua non esperienza, devi guardare al tuo cuore. E sicuramente non chiama persone che non vogliono stare alla presenza di Dio. E lui, mentre il popolo pregava, gridava, ha ricevuto questa visione, questo intervento e gli ha detto cosa doveva fare. Infatti, a un certo punto, capendo che era davanti a Dio, a un servo, all'opera di Dio, a un uomo di Dio che doveva liberare il suo popolo, lui ha chiesto un segno. C'è ok, credo che Dio voglia questo, ma io devo chiederti qualcosa per conferma. Poi vediamo più avanti. Attenzione, il fatto del vello, cioè che chiede che prima sia bagnato il vello è intorno asciutto, la mattina dopo, cioè che la brina bagnasse solo questo pezzo di un metro e qualche cosa, quadrato, e tutto il resto dovesse essere asciutto, lo chiede per la conferma di quello che ha sentito. Ok? E poi, quando riceve questo, il giorno dopo chiede l'esatto contrario. Voglio che invece il vello sia asciutto e tutto intorno sia bagnato di rugiada. E quando vede questo, capisce che è la volontà di Dio. Molta gente, quando parla con Dio, adopera un po' la storia del vello per chiedere conferme. Oh, signore, se è la tua volontà, o deve accadere questo, si bagnerà quello, o mi darai quello, o succederà questo. Attenzione, non è così che si sa la volontà di Dio. Dio è stato specifico e gli ha detto cosa doveva fare lui e come doveva farlo, cosa voleva Dio. Quindi sapeva già cosa doveva accadere. Non doveva chiedere se doveva accadere. Amén? Mentre tanta gente tenta un po' la fortuna. Se succede questo è volontà di Dio. O tanta gente si mettono insieme persone che non dovrebbero stare insieme con la scusa di dire tanto ci amiamo, l'amore è Dio, Dio è amore, quindi noi staremo per forza bene insieme. Ecco, lì si fanno le forzature. Io faccio quell'attività perché mi sento positivo. La domanda è Dio cosa ti ha detto? Eh, non lo so. Allora vai alla presenza di Dio fin quando Dio ti parla. Amén? Quindi attenzione a tutte quelle persone che fanno un po' tipo cabala. No? Signore, cosa dici? È giusto fare questo? E prosperò, e migliorò, e conquistò. Ah, ok, signore, lo faccio. Poi aprono la cosa, fanno il passo, finisce tutto, dice, signore, ma tu mi avevi detto. Oppure, signore, che dici? Sposo quella persona? Ma Giuda si sedette a fianco a loro e Gesù mise il pezzo del pane. No, no, non è possibile. E allora infilò la spada e uccise il filisteo che... Cioè, continuano a cercare nella Bibbia, risposte così. Ma Dio parla direttamente ai Suoi servi, parla in funzione di quello che tu vuoi fare per Dio. Amén? Dio non dirà a te quello che devo fare io. Dio dirà a te quello che tu devi fare. Amén? Che poi ci sono le persone che fanno i profeti, vanno, sai, sento che Dio ti dice che tu devi fare, secondo me, tu, Dio dice... Ognuno deve sentire da parte di Dio cosa è giusto fare, amén? Quindi cosa succede? Che lui, riconoscendo che era Dio, dice, ok, rimani qua, non te ne andare. È andato a casa, ha cotto un agnello, ha preso il vino, ha portato tutto davanti all'angelo, ha messo lì sulla pietra, ha versato il tutto sulla carne e dice che un fuoco si è acceso e è stato offerto come olocausto. Ulteriore segno che Dio accetta il nostro sacrificio. Vedete? Non ha solo, terza cosa, non ha solo fatto una preghiera. Dio agisce se noi ubbidiamo. Quindi non basta pregare, chiedere a Dio, ma dobbiamo ubbidire, fare determinate cose. E cosa succede? Che gli aveva detto anche cosa fare? Dice tu toglierai l'idolo di Bal, di legno, e costruirai l'altare al Signore. Ma cosa dice? Che lui lo fece di notte perché aveva paura delle conseguenze. Ok? Però l'ha fatto. Qualcuno potrebbe dire, è vero, però l'ha fatto di notte. Non è una forma di disubbidienza. Non si può dire che noi mai avremo paura. La nostra paura diventa pericolo quando noi questa per paura disubbidiamo. Ma lui l'ha fatto, anche se l'ha fatto di notte. Amen? Alcune volte abbiamo esitazione nel farlo. Non lo facciamo subito, ma lo facciamo in giornata, lo facciamo la notte, lo facciamo il giorno dopo, ma lo facciamo. Perché qualcuno ha evidenziato. Eh, però l'ha fatto di notte, mentre Dio gliel'ha detto di giorno. E cosa succede? Che quella stessa notte, ubbidiente al comando del Signore Gideone, distrusse l'altare che suo padre aveva costruito a Bal. Egli stava vicino al suo posto ed eresse uno stelo, un altare a Yahweh. L'indomani mattina la gente della gente di città era pronta ad ucciderlo per questo gesto. La gente dice, chi ha tolto di mezzo il nostro altare a Bal? E a quel punto cosa succede? Che il padre di Gideone viene fuori e gli dice, guardate, se Bal è veramente o Dio è forte, si vendicherà da solo, si farà giustizia da solo. Anzi, se qualcuno vuole, come dire, difendere la causa di Bal, sarà messa a morte. Amen? E qui, a ordinare, ha soprannominato il padre di Gideone di fare questa cosa e ha soprannominato Gideone in Gerobal, che vuol dire difenda Bal la sua causa. Quindi Gerobal era il soprannome di Gideone che voleva dire difenda Bal la sua causa. Ed è stato lui che ha fatto in modo che Bal si doveva difendere da solo. Quindi quando vedevano Gideone, vedevano qualcuno che aveva spinto Bal a difendersi da solo. Questo era il significato di questo nome. Amen? Qualcuno potrebbe, come detto prima, pensare che aveva avuto paura, ma non bisogna dimenticare che aveva obbedito. Quindi quando noi abbiamo un problema, dobbiamo rivolgerci a Dio, ascoltare la sua volontà, quindi stare alla presenza di Dio. Amen? E poi incominciare a fare quello che Dio ci ha detto. Tanta gente viene in chiesa, va da Dio, sente tanti bei messaggi, ma poi non cambia la propria vita, non toglie di mezzo quelle cose che sono la causa. Se uno viene in chiesa le cose non vanno, la prima, la seconda, vuol dire che Dio non può agire, non che non vuole, non può. Vuol dire che su di noi c'è qualcosa che noi permettiamo di vivere e sostituire Dio. Non è venendo in chiesa che il diavolo se ne va. Amen? Non è venendo in chiesa che le maledizioni si interrompono. E quando noi abbiamo intimità con Dio, crediamo e quindi agiamo. Mi ha chiamato una persona, mi ha scritto una persona un messaggio, dicendo io ho spesso dei sogni, ho spesso degli incubi. Dice come mai a me? E come mai poi non riesco mai a vincere? E la risposta più o meno è questa. Ho detto, cercando di incoraggiare, prendendo il lato buono della cosa, ho detto questo dipende perché adesso in questo momento stai cercando Dio. E siccome c'è qualcosa che probabilmente ha influenza su di te, sta reagendo, sta uscendo fuori. Continua a cercare la verità e ti libererai. Questa è la verità. Non ho voluto dire devi per forza venire in chiesa, devi far parte del corpo di Cristo, ma è la verità. Perché già l'ho detto altre volte, quindi non voglio che la persona possa vedere che devi venire in chiesa perché ci sono io. Ma è chiaro che queste cose, sapete come sono? Sono come quegli inquilini che hanno lo sfratto dall'appartamento e prima di andare via ti sfasciano la porta, ti rubano il lavandino, ti sfregiano i muri, a dispetto, no? Danno i colpi di coda. Finché uno sta bene nel peccato, anche se viene in chiesa, ma non cerca Dio, non va a leggere, non ha un rapporto con Dio, non dà possibilità di ascoltare Dio, e Satana sta tranquillo, vive tranquillamente nella vita delle persone. Perché si deve manifestare? Invece quando noi incominciamo a prendere seriamente Dio, incominciamo a vedere cose in casa che non ci aspettavamo, chi vede ombre, chi si sente toccare alla notte. Perché? Perché c'è qualcosa, se no non accadeva. Amene? Quindi nel momento in cui noi incominciamo a ubbidire a quello che Dio dice, il nemico comincia a perdere potere. Più andiamo alla... Sapete, i minatori, quando vanno giù in questi ascensori sotto la terra, si guardano tra di loro, non si accorgono che sono neri. Ma man mano che l'ascensore, quando finisce il turno, sale e vengono alla luce, si guardano e sono tutti sporchi, tutti neri. Cosa che giù non vedevi. La stessa cosa è con Dio. Quando noi ci avviciniamo a Dio, ecco perché non necessariamente c'è bisogno di pregare per le persone, c'è bisogno di predicare la parola. E se la persona si innamora della parola, accetta la parola di Dio, Satana, che potrebbe essere lì a influenzare o a prendere possesso di quella persona, incomincia a perdere forza. Quando si avvicinavano a Gesù, cadevano a terra. Ma non era l'unzione che faceva cadere la persona sana, era il demone che perdeva le forze e faceva cadere. Quindi io credo nelle cadute, ma credo che siano momenti di liberazione, non di guarigione. Dio agisce come vuole, ma noi dobbiamo sempre mettere in pratica quello che Dio dice. A questo punto i Madianiti, gli Amalekiti e i popoli che stavano intorno, si erano radunati contro Israele, attraversarono il Giordano e si accamparono nella valle di Ezrael. E lo detto del Signore, rivestì Gedeone, il quale radunò un esercito della tribù di Menasse. Prima di avventurarsi in battaglia a Gedeone, volle ricevere da Dio una prova futura. Vedete, dopo che aveva tutto questo, a quel momento dice ok, credo che mi hai chiamato a questo e chiede il segno del vello. Ma vedete, dopo aver sentito cosa doveva fare, aveva distrutto un idolo, aveva, quindi sapeva già, perché aveva fatto già dei passi di fede, ma a questo punto dice ok, io adesso vado in guerra contro un esercito, posso morire. Non è che mi sto inventando qualcosa? Quindi se tu mi hai detto questo, me lo confermi attraverso questo segno. Questa è l'entità del segno chiesto, di una conferma di quello che già sapeva cosa fare. E vedete, era un segno sopranaturale, non era un segno naturale. Se tu devi avere il coraggio di chiedere a qualcosa a Dio, chiedi qualcosa di sopranaturale. Non se apro qualcuno e c'è dietro, apro la porta e c'è dietro qualcuno è la tua volontà. Se lo trovo lì vuol dire che allora è la persona giù. Non è questo, segni sopranaturale. Perché tanta gente vuole fare queste cose, ma le fa un po' che non rischia nulla. Tu immagina che chiedeva che il vello fosse bagnato e invece si alzava e non era bagnato, né il vello, né intorno. Magari vedeva dell'acqua più avanti. Invece lì era una cosa precisa, delineata, delimitata. Bianco nel nero e nero nel bianco. Dio le aveva già detto a Gedeone e desiderava semplicemente essere rassicurato dell'impresa che doveva affrontare. E poi cosa succede? Che nel capitolo 7 Dio gli dice di andare con il suo esercito verso i nemici. Ma cosa succede? Che qua si presentano circa 30.000 persone. Allora Dio dice se questo mi ha ascoltato e ha creduto queste cose, se vince con 30.000 soldati, questo poi può pensare che il suo esercito era ben preparato. Allora cosa fa? Dice no, tu dovrai vincere con 300 soldati. E gli dà anche la strategia per come togliere 29.700 persone. Quindi quando tante volte ti senti limitato nel potenziale che sia una risorsa economica, che sia una risorsa di persone, che sia una questione anche di tempo, non lo so, hai poco tempo, qui subentra la fede in Dio. Perché se tu hai tanto tempo non puoi dire che Dio l'ha fatto. Se tu hai tanti soldi, tanta gente dice di avere fede, ma fa delle imprese anche per Dio, perché è milionario. Ma non è fede questa, è generosità. Ma quando tu devi fare una cosa che non hai per Dio, quella ci vuole fede a me, e Dio vuole che noi viviamo per fede. Quindi i problemi, le carestie, le situazioni difficili servono per dimostrare che la fede è l'unico ingrediente per vincere. Vi ricordate il messaggio di domenica? Che Dio attraverso il poco ci farà vedere, ci porterà fuori da questa situazione difficile grazie a lui. Se noi crediamo, usciremo non solo con una visione, ma anche benedetti dal deserto. Però se io invece ho paura, ho dubbi e non ho un rapporto con Dio, chissà quando finirà, come finirà, e questo produrrà l'esito negativo. Quello che temo, quello ricevo. quello di cui ho paura, quello mi ha schiacciato. Amen? Allora? Ma io ho paura, ma io ho ansia. Ok, allora vieni alla presenza di Dio, purifica il tuo cuore, la tua mente e incomincia a ragionare come ragionerebbe Gesù. Amen? Io intanto non devo mancare di nulla e in questo momento di difficoltà Dio mi dà capacità, intelligenza per uscirne. Io mi ricordo una storia che io ho sentito, era Derek Prince, un uomo che è morto forse 15 anni fa, aveva già 90 anni, e lui ha passato l'Europa da parte a parte durante la seconda guerra mondiale con nove figli e camminava con nove figli, dal più piccolo al più grande, con la moglie, e andava, non so, dall'Austria alla Francia e passando, e quindi chilometri, chilometri a piedi durante la guerra, il freddo, tanto tempo, eh? Ma lui confidava in Dio, non ha perso un figlio, non ha perso la moglie, hanno sempre mangiato e sono stati benedetti e protetti fino all'ultimo. Tant'è vero che io l'ho conosciuto e lo portavamo a Biceglie circa 30 anni fa. Derek Prince ha scritto dei grandi libri su digiuno, sulla battaglia spirituale, e quindi è stato un grande uomo che ha passato la storia. Perché? Perché lui credeva che Dio poteva provvedere. Amen? La tua vita non è di meno di questo uomo, la vita nelle sue difficoltà è fatta per conoscere che Dio esiste e che Dio può fare le cose. Amen? Non è un tiriamo avanti. Gloria a Dio per chi riesce a mantenere, diciamo, quella fede nei momenti che hanno avuto una vita tartassata di problemi. Non discuto quello. Io voglio essere di quelle persone che anche in situazioni difficili ha una parola di incoraggiamento, ha una preghiera di lode, ha un ringraziamento per Dio, ha una testimonianza per gli altri, per come fare. Amen? Non devi piegare le tue ginocchia alle ansie e alle paure. Tu parla di Dio e sarà Dio. È il suo nome in ballo. Amen? È lui che testimonia di se stesso. Ma tu devi essere tutt'uno con lui. Devi parlare del tuo papà. Quando parliamo di Dio, parliamo di Dio, ma anche di mio padre, del mio Signore, del mio Salvatore, del donatore della sua vita per me, della sua intelligenza per me, il suo sangue scorre dentro di me. E no? Amen? E che ha preparato un posto per andare e stare con lui per l'eternità. Questo è il cammino del cristiano. Amen? Noi non avremo sette vergini che ci aspettano. Noi non avremo neanche il sesso a cui pensare. Non c'è il sesso nell'aldilà. C'è Dio, c'è l'amore, c'è la vittoria, c'è la benedizione, c'è la bellezza in assoluto, c'è la pace. Non c'è. Non c'è neanche tua socia. Quindi immaginiamo che cosa vuol dire stare veramente alla presenza di Dio. Ma il bello è che noi qui, durante i nostri giorni, oggi, possiamo sentire la sua presenza. Tu puoi sentire il cuore affranto, ma allo stesso tempo sentire la presenza di Dio su di te. A chi si rivolgono le persone quando non hanno Dio? E anche tanta gente dice di essere cristiana, ma quando li senti pregare, mi mettono ansia, mi mettono paura. Signore, se puoi! Signore, se vuoi! Perché mi hai portato qua? Perché mi hai lasciato così? Dio! Ma se Dio ha mandato Gesù sulla terra, probabilmente non hai mai saputo come funziona. Probabilmente la chiesa dove vai, chiunque sia, non ti ha mai spiegato chi è Gesù, cosa ha fatto, come si riceve, cosa c'è scritto nella parola di Dio, perché la devi conoscere, perché la devi vivere, amè? Noi dobbiamo testimoniare che Dio esiste e che questa è la sua parola e accadrà ciò che è scritto. E finora si è realizzato l'83% di tutto quello che si è scritto qui. Il resto non è sbagliato, non è ancora accaduto, ma di tutto quello che si è scritto, l'83% si è realizzato, amè? Quindi vuol dire che questa parola è vera al 100%. Allora, io non conosco libro che dice il 100% della verità. E la parola di Dio, quando tu la leggi, anche in questo momento che tu la stai sentendo, solo perché è la parola di Dio, tu stai ricevendo guarigione dentro di te, stai incontrando la vita dentro di te, amè? Allora la morte se ne va, la malattia se ne va e noi dobbiamo essere quelli che vivono secondo la parola, amè? Sulla bilancia noi mettiamo la parola di Dio, ma questa bilancia, quando si alza, ci separa, ci allontana dal nemico, dalla malattia, dalla maledizione, amè? E noi non moriremo perché abbiamo un compito, testimoniare chi è Gesù. Chi non si interessa, chi non testimonia, è in grave pericolo. Perché? Perché se non servi Dio, a cosa serve? Se dici di essere cristiano e non lo condividi con nessuno, a chi lo dai? Quindi è importante che comprendiamo quello che Dio vuole, quello che noi dobbiamo fare. Amen? E dal capitolo 7, affinché fosse chiara l'opera, la matrice della vittoria di Dio contro i Madianiti, il Signore disse a Gedeone di ridurre da 32.000 a 10.000. Dicendo adesso di al tuo popolo tutti quelli che hanno paura, che stanno male, che hanno... Andassero a casa. Amen? E gran parte delle persone, 20.000 persone, se ne andarono. Perché dice che se tu hai paura di combattere, c'è scritto anche in dettornomio, non devi partecipare, perché sei un perdente. Già la legge diceva che se tu hai paura, non andare in guerra, perché perdi. Quindi non andare ad attaccare il diavolo se non sai chi è e se hai paura, perché le prenderai. No? I sette figli diceva. Noi predichiamo il Vangelo di quel Gesù che Paolo predica. Gesù so chi è, Paolo so chi è, ma tu chi sei? E sette uomini le hai presero da un uomo solo perché aveva demoni dentro. Amen? E quindi cosa succede? Dio mise alla prova anche tutto il resto delle persone al fiume. E dice no, voglio che anche di questi 10.000 solo 300 dovranno rimanere. E allora dice adesso falli andare a bere al fiume e io ti dirò. E a un certo punto dice guarda, tutti quelli che si inginocchiano a bere come i cani, tutti quelli che berranno con la lingua nell'acqua, tutti questi li manderai a casa. tutti coloro che invece prenderanno l'acqua e la porteranno alla bocca con la mano, loro saranno le persone che verranno in guerra. E ne rimasero 300. Su 32.500 persone, 300 bevevano l'acqua in quel modo. E con quei 300, perché Gedeone non poteva dire che io ho un grande esercito, ma anche se erano valorosi, contro 135.000 uomini, eserciti, soldati, 300 non sono nulla. Eppure Dio dice tu non ti preoccupare, 300 non essere. E non solo, gli dice di dividerli in gruppi da 100. 300 ci facciamo un numero. Poi dice no, 100 là, 100 qui e 100 là in fondo. Ma se ci vedono 100, quelli 135.000. C'è un'enormità, tipo 40.000 persone contro 100. 40.000 persone che se dovevano soffiare uno alla volta non avrebbero spinti chissà dove. e invece ancora una volta Dio è dietro alle persone che hanno fiducia in Lui. E Dio ti sta dicendo non ti preoccupare quanto hai. Quante volte abbiamo visto no? Cos'hai? Solo un piccolo vasetto d'olio. Portalo. Vai a prendere i vasi, versa dentro. E quei vasi molto grandi si riempirono tutti da un piccolo vaso. Cos'hai da mangiare? Un po' di farina, un po' d'olio. Vorrebbe fuori una pizza per me e mio figlio. fammi da mangiare per me. E mangiarono per tutto il periodo della sicilità lui, lei, il figlio e il profeta. Cioè Dio può farti vincere attraverso le briciole che hai in tasca, attraverso gli spiccioli che hai in tasca. E tante volte è la tua fede che è così poca. Ma dagliela a Dio e Dio la moltiplicherà. Quindi noi possiamo dire grazie Signore di questo momento difficile perché adesso comprendiamo che abbiamo bisogno di te perché noi sappiamo che questo momento difficile noi ne usciremo vincitori solo grazie a te. Ameno? Ma devi dirglielo. Devi entrare in quella stanza, parlare con lui. Mi fa piacere che vieni qua, mi fa piacere che stai ascoltando, ma se non entri nella tua stanza personale non accadrà nulla. Perché è nella propria stanza che noi, come ha fatto Gideone, è nella presenza di Dio che ha saputo cosa fare, non gliela ha detto davanti a tutti. Il profeta, la preghiera, l'angelo del Signore, sono tutte cose che sono accadute singolarmente, personalmente. Ameno? E cosa succede? Che la sera prima Gideone con il suo compagno, pura si chiama, sono andati fino all'accampamento. Immagina di notte, arrivano e mentre sono lì sentono questi madianiti che uno racconta all'altro il sogno che ha fatto. E gli dice stai, ho sognato che c'è una tenda e poi il pane e poi dalla montagna scende tutto questo e distrugge tutto. E lì Gideone insieme ascolta e capisce che Dio gli stava dicendo attraverso il sogno di quelli cosa avrebbe fatto attraverso Gideone. Tant'è vero che dice anche che alla fine Gideone la sua spada riconosce. Quindi sente anche il suo nome dichiarato e la spada di quello che avrebbe fatto. Vedete? Durante tutto questo percorso mentre era vicino all'esercito durante la notte ancora non doveva combattere aveva solo cento persone Dio gli manda notizia di quello che sarebbe successo. Infatti dice appena fatto un sogno mi pareva di vedere un pane d'orzo rotolare nell'accampamento di Madian giungere alla tenda e colpirla così da farla cadere e rovesciarla e farla crollare. Allora il suo compagno rispose e disse questa non è altro che la spada di Gideone il figlio di Dio uomo di Israele nelle sue mani Dio ha dato Madian e l'intero accampamento cioè lui era lì a pochi passi e sentiva questi due magari sdraiati a terra con la spada vicino al fuoco che si raccontavano queste cose poteva andare a un altro gruppo potevano quelli parlare da un'altra parte no lì dove è arrivato lui mai ti è capitato che ti trovi al posto giusto al momento giusto che avevi bisogno di sapere quella informazione perché senza quella informazione non avresti potuto fare la scelta giusta e il signore come ho fatto a saperlo grazie ecco perché non sottovalutare mai che Dio ti parla ti suggerisce no un momento anche di disattenzione tu faresti un incidente ma a un certo punto Dio ti apre gli occhi ti fermi e subito dopo vedi accadere qualcosa e se tu avessi esitato a fare a fermarti a dire saresti stato coinvolto in un incidente in una discussione in un frainteso quindi ogni volta è così bello dire grazie signore stanno litigando io potevo stare là c'era un incidente potessero là quelli hanno fallito io no grazie signore le persone che stavano con me mi stavano preparando un piano contro e non ce l'hanno fatta grazie signore no non per Dio no grazie perché mi hai protetto punto e basta io vivo per domani non vivo per le situazioni attorno amen è questo che tu devi vivere allora sarai felice in ogni momento amen uno caldrame ne abbutterà giù mille e due diecimila oppure mille alla tua sinistra e diecimila alla tua destra ed è una moltiplicazione esponenziale non è due per quindi Dio può fare cose grandiose attraverso ognuno di noi Dio vuole fare cose grandiose questo è il momento in cui la chiesa quando parla tocca e raggiunge la vita della gente troppa gente è in depressione troppa gente parla negativo gente che no deve andare a lavorare e dice sì ma dove vado e c'è la crisi alzati la mattina entra alla presenza di Dio incomincia a pregare e di signore guidami attraverso questo deserto dammi la strada fammi trovare il cibo nel deserto fammi trovare l'acqua io non sarò toccato da questa cosa cominci a dichiararlo ma se tu vivi con rassegnazione signore Israele i Madianiti abbiamo seminato ci stanno rubando no hanno gridato Gesù Dio vieni soccorrici e Dio è arrivato e che cosa ha detto bravi che mi avete chiamato adesso vi risolvo tutto no ha detto questa è la causa del vostro idolo vuol dire che c'è qualcosa che vi sta rovinando perché io non l'avrei permesso toglietelo addirittura cosa ha detto fatemi di nuovo un altare tornate alla preghiera tornate a mettere Dio al primo posto se noi lo facciamo nella nostra il messaggio è per l'Italia il messaggio è per tutti ma chi sta ascoltando Dio sta dicendo tu devi fare un altare in casa tua se non vuoi fallire devi fare un altare in casa tua la tua famiglia deve stare lì con te davanti a Dio e allora sarai protetto tu e la tua casa amén siamo tutti fratelli ma ognuno deve avere il proprio Dio nella propria casa amén probabilmente il pensiero nella vita di Gedeone in quella fase dove Dio dice ok fai questo questo e questo dice però da tutte queste persone dobbiamo ridurle io penso che dice ah signore hai fatto tanto per mettermi in una posizione di fede adesso che fai mi togli i 30.000 tu dici siamo 100 in chiesa adesso ce ne sono 15 20 aspettiamo che tornano tutti no vanno bene questi a me perché se non sei d'accordo con te stesso che va bene per te voglio dire no qualcuno dice va bene però mi tocca a me lavorare combattere perché tu ce la puoi fare perché se Dio ti ha chiamato vuol dire che puoi vincere gli altri non sarebbe una vittoria spirituale sarebbe una cioè ecco avere fede perché ci sono gli altri non è fede avere fede perché tu hai Dio quella è fede amén e Dio ti ricompenserà per la tua venuta qui per l'essere qui perché hai pagato un prezzo hai combattuto hai voluto esserci e Dio ti ripagherà amén e quindi i timori in Gedeone potevano di nuovo accendersi perché come ho detto prima erano 135.000 da combattere solo con 300 nonostante ciò le parole che avevo udito pronunziarono pronunziate dai nemici hanno rafforzato la fede vedete lui ha obbedito quando è arrivato a 300 si è spaventato poi è arrivato vicino all'esercito nemico e le parole del nemico sono state fonte di benedizione lì capisci che Dio è all'opera quando tu sei nella situazione più difficile e addirittura chi ti stava remando contro ti dice delle cose a tuo favore quante volte ho visto persone tornare e dirmi pastore o papà sai che hanno detto lì l'altro dove avevi paura ti hanno dato belle notizie incredibile guarda pensavo mi dovessero lapidare mi hanno assunto mi hanno benedetto mi hanno dato una possibilità amén perché Dio è con te mentre prima il popolo di Israele era lontano da Dio e il nemico lo stava rubando distruggendo nel momento in cui grazie a qualcuno ha iniziato con uno Gedeone è cambiata l'atmosfera spirituale persino il parlare dei nemici erano parole di fede per Gedeone le stesse persone di cui aveva paura e magari sentiva di nascosto dove erano quando andava a raccimolare un po' di cibo di nascosto adesso era lì e di nascosto aveva sentito parole che stavano edificando Gedeone e io voglio che ognuno di noi stasera possa essere edificata dalle parole che il nemico diceva contro di noi le parole negative di questo periodo diventano le parole positive per farci credere in noi stessi credere in Dio e incominciare ad avere un'aspettativa migliore più grande benedetta in tutto quello che dovremmo fare amén non importa quello che tu guardi attorno perché lui ancora non aveva visto la battaglia non l'aveva vista la battaglia sapeva cosa doveva fare cosa ha detto Dio ma a questo punto ancora anzi ha rischiato di essere ucciso dai suoi compaesani perché aveva creato aveva abbattuto l'idolo di Bal la mattina si sono alzati ne andarono a cercare e in piazza il padre disse se Bal è un Dio se la vedesse da solo si difendesse da solo ha un papà così eh che trova le soluzioni e tu puoi essere quella persona che può aiutare gli altri a prendere quello che in realtà vedete tutto quello che ti viene puntato contro tu lo puoi adoperare con la sapienza di Dio e rivoltarlo contro il nemico amén la sapienza di Dio la capacità di Dio e se Dio ti sta parlando di questo è perché vuole darti questo perché lui vuole usarti in questa maniera amén credilo non vivere come come Gedeone prima vivi come Gedeone dopo l'incontro c'è prima e dopo un faccia a faccia con Dio amén all'udire il racconto del sogno e la sua interpretazione Gedeone si prostrò in adorazione al versetto 15 del capitolo 7 dice subito andò ad adorare il Signore quando non quando aveva vinto quando ha sentito che anche il nemico diceva quello vedete cosa fa basta una bella notizia che tu vai alla presenza di Dio e cominci a lodare amén Signore non è ancora caduto ma il nemico sa io so che tu hai detto questo e quindi porterai a termine di questo amén come dicevo stamattina nel messaggio grazie Padre perché nessuno di quelli che mi hai affidato è andato perso io do gloria a Dio io credo questo io ricevo questo io dichiaro questo amén per me è motivo di la vostra benedizione la vostra vita è la mia vittoria io vinco sempre io non c'ho niente da vincere personalmente ho già vinto ma continuo a vincere con ogni persona che è Dio mi ha dato da curare da insegnare per le vie del Signore amén ecco che quando dico la vostra battaglia è la mia battaglia e la vostra vittoria è la mia vittoria io sono cresciuto nella fede grazie ad avere aiutato persone in ogni tipo di situazione dalla vita alla morte al lavoro a qualsiasi cosa ogni volta che hanno ricevuto io ho ricevuto perché io gli ho spiegato sono stato a fianco sono stato l'unico a credere nel risultato forse anche più di loro e quando lo hanno ricevuto io ho detto grazie a Dio perché io ho imparato la fede ho sperimentato la fede ho testimoniato la fede amén quando si parla che noi saremo testimoni testimoni di cose di cose che tu hai vinto partecipato amén poi tornò all'accampamento di Israele e disse levati levatevi perché l'Eterno ha dato nelle nostre mani l'accampamento di Madian la certezza della vittoria e Gedeone tornò a convocare tutta l'assemblea andò a fare la battaglia e andò a vincere e sapete come vinse disse l'uomo di Dio l'angelo di Dio di prendere una brocca di mettere un lume dentro e poi quando era il momento di spaccare la brocca e quindi avrebbero avuto in mano la luce che fino a quel momento era dentro e quella luce e le grida andando verso il popolo cosa succedeva che il popolo stesso i Madianiti impauriti presi dal timore che l'Eterno aveva anche diffuso tra di loro incominciarono a scappare nello scarpare dice che si uccidevano l'un con l'altro con la spada perché non sapevano più da dove arrivava il pericolo e quindi nel buio le luci i rumori si uccidevano l'un con l'altro e quelli che erano scampati una qualità di Gerione e che non ha mai mollato finché lui ha vissuto per 40 anni dopo questa esperienza è sempre andato in cerca degli ultimi Madianiti li ha sempre uccisi nelle varie situazioni vedete quando ha fatto quella battaglia anche il modo in cui è stata vinta la battaglia è stato che si sono uccisi tra di loro quando anche il profeta Elia disse signore fai vedere al mio servo che coloro che sono con noi sono di più di coloro che sono contro di noi c'era un esercito davanti a loro e Elia sapeva che avrebbe vinto ma il suo servo aveva paura e ha dovuto pregare affinché Dio gli facesse vedere la schiera degli angeli che erano pronti a combattere per Dio per il suo popolo ed erano di più di quelli che erano contro di loro quando noi entriamo in battaglia non pensare che sei tu in battaglia è Dio che è in battaglia con noi Dio dice sempre anche nel mio sentimento la battaglia è la mia ma ha bisogno che noi siamo suoi quando noi ubbidiamo quando noi abbiamo fiducia quando noi dipendiamo da Dio quando siamo fedeli a Dio la battaglia è completamente la sua quando siamo mancanti noi vorremmo che Dio combattesse per noi ma non può farlo perché c'è un idolo c'è un problema dentro la nostra vita ecco perché se vogliamo vedere l'uscita di questo tunnel se vogliamo uscire più benedetti di come siamo entrati è il momento di fare piazza pulita nella casa nella famiglia nel cuore nella testa nella propria vita amen togli quello che Dio ti mette davanti ascolta Dio prega chiede a Dio c'è qualcosa che io sto facendo che non va bene e che questo sta rovinando la mia vita spirituale la mia vita finanziaria la mia vita familiare togli di mezzo qualsiasi cosa e la tua vita prospererà amen quindi stare vicini a Dio non è solamente per vincere ma continuare a vincere e impedire che i nemici ritornino quindi finché Gedeone visse e onorò Dio tutto Israele per 40 anni fu benedetto lo sappiamo no? il libro dei giudici se noi andiamo a vedere vediamo nel periodo che Israele ha dei bei momenti con Dio e dei momenti di sofferenza di battaglia di persecuzione ogni volta che cambiava il re il giudice che magari non era uno di quelli che serviva a Dio produceva maledizione in tutto Israele quindi dipende da noi due offri un sacrificio devi offrire qualcosa a Dio la tua vita la tua attenzione amen non puoi pensare che cinque minuti mettono a posto la tua vita devi offrire qualcosa che ti costa ogni giorno passare un tempo leggere pregare liberarti se è qualcosa che non va amen tre distrusse l'altare di Baal perché Dio non può agire non basta una preghiera bisogna togliere di mezzo quello che impedisce alla preghiera di funzionare quattro Dio aveva già detto cosa fare non fu una rivelazione quella del vello ma una rassicurazione amen cioè puoi chiedere a Dio una conferma tanta gente parte in quarta io invece ti dico chiedi conferma a Dio affinché ogni cosa prenda la sua giusta posizione e soprattutto vediamo che era un segno soprannaturale non ti accontentare di dire sì no se domani piove se domani c'è il sole allora no quello lo fa anche l'islam se Allah vuole non è così Dio parla Dio dice e tu devi poter dire Dio mi ha detto Dio ha fatto amen da queste azioni possiamo capire chi era Gedeone prima di tutto prima di mettersi alla guida per altri lui stesso ha dovuto convincersi di quello che stava facendo tu non puoi convincere la tua famiglia tu non puoi pretendere che i tuoi familiari si salveranno verranno in chiesa accetteranno Dio se tu non sei un buon leader devi togliere quelle cose che possono impedire la testimonianza la preghiera che possono essere un idolo per gli altri in primo luogo deve essere devi essere un uomo una donna fedele un adoratore che riconosce il posto da dare a Dio vediamo che lui dopo che ha sentito queste cose dice è andato di corsa ad adorare Dio voler adorare non è solo intercessione è proprio signore io stacco la spina perché vengo davanti a te parlo con te dichiaro grazie per la giornata di oggi so che se il mio cuore batte dentro è per te se c'è la tua protezione su di me la tua parola echeggia nel mio cuore so che la storia è scritta in questo libro e tu me la stai facendo vivere questo rapporto con Dio amè sai che qualsiasi cosa affronterai tu vai da lui ad adorarlo Dio cerca veri adoratori escono quando tu vieni dalla presenza di Dio quando esci da quella stanza tu coinvolgi tutti no? ci sono persone dicono ah quella persona è simpatica quella persona è forte ecco dovrebbero cominciare a poter dire quella persona è spirituale quella persona quando prega cambia la storia quella persona è un piacere ascoltare quando parla di Dio sai quando c'è un problema ti dà sempre la soluzione in Dio amè quando dicono questo quando ti cercano per questo sei un vero adoratore soprattutto dobbiamo guidare attraverso l'esempio le persone vedono quando noi viviamo per noi stessi io 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 sono un masto io sono qua anche spiritualmente io sono il pastore ma credo di portarvi sempre al mio Dio di farvi vedere che io se parlo così è perché credo in Lui così perché Lui mi ha insegnato così e se viene a fianco a me non ti parlo di me ma ti presento Lui e quando ti aiuto a risolvere i tuoi problemi ti faccio vedere come Dio è in mezzo al nostro problema cosa dice cosa fa Lui a me prendi i tuoi figli prendi i tuoi familiari e incomincia a spiegare come sta agendo Dio cosa vuole fare Dio incomincia ad abbattere l'idolo c'è gente che non parla in casa che non mette giù questi appuntamenti perché ha paura di quello che dirà il familiare come ti permetti vieni a casa e vuoi dire che l'idolo di Bal che io fossi tuo padre tua madre ho costruito non è più buono oggi è il momento di abbatterlo butta tutto e la mattina fai trovare la parola di Dio in casa tua fatti trovare lì pronto quando si alzano oggi dobbiamo pregare insieme perché da oggi deve entrare Dio nella mia famiglia punto questo è abbattere l'idolo questo è sostituire superstizione tradizione ignoranza sbatti via tutto dalla tua famiglia incomincia ad essere tu come Gedeone Gedeone era giovane piccolo nascosto eppure di notte ha fatto quello che Dio ha detto e la mattina l'ha fatto di notte ma sapeva che la mattina doveva affrontare il suo giudizio ma ormai la fede era dentro di lui parlava come Gesù parlava come Dio gli aveva insegnato non tornava più indietro e se Dio e Dio dopo avergli parlato in quel modo ha detto che adesso da 30.300 non il 10% l'1% ma ha avuto il 100% con l'1% ha vinto un esercito di 135.000 persone quindi Dio mantiene la sua parola e benedice gli strumenti che si è scelto Dio ha scelto Gedeone e ha liberato una nazione attraverso Gedeone quindi se tu non hai nessuno da liberare in casa tua ti sarà ancora più facile ma la gente i tuoi familiari devono sapere che tu sei cambiato tu non puoi parlare più come una volta non devi più attaccarti a certe cose devi ripulire la tua vita affinché il regno di Dio si manifesta nella tua vita attraverso la parola forse dovremmo fare anche noi come Derek Prince da una nazione andare in un'altra nazione e in tutto questo tragitto durante la guerra dove il cibo non era facile da trovare dove i bambini piangono per il freddo e per la fame hanno sempre trovato qualcosa da mangiare hanno trovato sempre un riparo e hanno attraversato il periodo più difficile della storia della loro vita ma nessuno è stato perso cosa può fare Dio attraverso di te non vivere per te stesso a che serve vivere per se stessi la vita può finire da un momento all'altro lo vediamo ma avere Dio avere la pace nel cuore sapere che il miglior disinfettante nella nostra vita in questo momento è Gesù Cristo il miglior vaccino in questo momento è Gesù Cristo è riceverlo e dargli gloria per questo Signore vogliamo ringraziarti benedirti per la tua parola vogliamo ringraziarti benedirti per tutti coloro che hanno ascoltato da casa che ci stanno ascoltando ti chiediamo di benedirli nel tuo nome ravviva in loro la fede e la certezza fa che questo seme non cada nella strada ma in un buon cuore in un buon terreno che crescerà e porterà il frutto il 30 il 60 il 100% nel nome di Gesù noi dichiariamo che da questo momento ci sarà un nuovo tempo dove ognuno di noi parlerà alle famiglie e comincerà a portarli al vero amore all'amore di Dio alla dipendenza dalla preghiera a pregare per cambiare la storia di ogni situazione che sia la fede che sia la vita che sia ogni cosa di cui abbiamo bisogno in questo periodo tieni lontano da noi il male separaci dal maligno nel nome di Gesù e nel nome di Gesù vogliamo prendere autorità contro principati podestà signorie e spiriti maligni nel nome di Gesù Cristo vi leghiamo e vi scacciamo via come spirito di morte spirito di malattia vi ordiniamo di lasciare ogni persona di questa chiesa ogni persona che sta ascoltando e vi lasciamo la benedizione del santo su di noi sulla nostra vita signore ti fidiamo anche Giosuè che ci sta ascoltando in quel furgone che sta andando verso il lavoro ma ha voluto essere qui a lodarti accompagnalo fai sentire la tua presenza i tuoi angeli intorno a lui benedicilo signore che possa vivere di rivelazione in tutto quello che fa per ogni fratello e sorella che sta ascoltando che possa ribellarsi all'apatia alla pigrizia al peccato alla debolezza e cominciare a desiderare di essere qui vogliamo pregarti che il livello di infezione scenda signore che l'Italia sia liberata da questo virus che possiamo ritornare a incontrarci a muoverci di paese in paese perché ci mancano i fratelli e le sorelle che sono bloccati ma che possono insieme condividere la fede la preghiera ti chiediamo che nessuno di quelli che ci hai donato sia perduto o si perda ti chiediamo la tua protezione divina nel nome santo di Gesù Cristo grazie signore e con questo vogliamo salutare e congedare i fratelli le sorelle gli amici che ci ascoltano e ci ascolteranno da casa tramite questo messaggio io posso entrare nella vostra vita nella vostra famiglia e benedirvi grandemente alzati e cammina e comincia a vendare verso Gesù comincia stasera a farlo entrare in casa tua a dichiarare la volontà di Dio e prospererai vincerai e passerai questo momento difficile dicendo ho ascoltato la parola del profeta la parola di Dio e siamo passati attraverso un momento difficile ma ora siamo qui a festeggiare nel tuo nome grazie padre un saluto una benedizione a tutti coloro che ci hanno seguito da casa che Dio risponda alle vostre preghiere e soprattutto vi aiuti a vincere nel nome di Gesù pace